mariano baino babettina da prova d'inchiostro e altri sonetti a ragno 2017 babettina pertina persico e viva l'uso forte in aggiustato della cucina tu cuoca totale e madre ubù che invoco dolce sale tipo la vita un po sotto il palato del tuo cromagnonoide affezionato dico di me mostruoso commensale e i paladino e i salvi niente male fra panzerotti pesto da boato anche il tuo mario non direi frugale dario lui solo non vedi allupato perché progenitore del maiale il tuo vitto è d'amore e se a uno strato mi porterà di terra comunale sarò terreno ahimè mai innamorato e questo uno dei sessanta sonetti che segnano il ritorno al verso dopo più di un decennio di mariano baino scrittore già agonista di rilievo nel gruppo 93 e in baldus movimento l'uno rivista l'altra ormai ampiamente storicizzati quali punti di aggregazione e di sporadica disseminazione dei sensi e dei dissensi che hanno costituito e alimentato i poetici discorsi nell'ultima scintillante furibonda e in fondo già estenuata stagione della poesia italiana d'avanguardia nel secolo che è stato per le arti in tutto il vasto mondo il secolo delle avanguardie baino pratica il ritorno al verso infaticata delizia usando il regolo della forma chiusa ed in particolare del sonetto il cui piccolo suono viene declinato nel libro in numerose delle varianti possibili della complessiva prova si tornerà a parlare nella rivista cartacea ci si sofferma qui piuttosto sulla destinataria della dedica la babettina cui il componimento con affetto citando la celebre partitura di karen blixen si rivolge tina persico ai più nota quale compagna della vita di mario artista di vasta e ispida fama nonché magnifico rettore dell'istituto patafisico partenopeo artista anche la magnifica non meno inafferrabile del celebrato marito se esibisce un corsetto fittamente medagliato trapunto di spille appuntate recanti le più strabilianti decorazioni conferite in successione in interrotta e tutt'oggi perdurante da torme di commensali concordi come un solo uomo nel cantar lode all'inappuntabile cuciniera inappuntabile perché si è detto inafferrabile per inventiva e forza dell'amalgama tra l'antico ed il nuovo tra il saputo e l'inusitato chi ha avuto la fortuna di sedere a pranzo o a cena tra gli invitati di casa persico non può non conoscere i panzerotti citati nel sonetto e non sapere in quale magnifica maniera cantino ritualmente l'introibo cantarne lode non è quasi possibile sfiorano l'ineffabile come ogni cosa d'arte che è vitto d'amore in ogni caso estasi di palato e d'intelletto costrutto inaggiustato e irripetibile grazie a tutti